Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buonasera, benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con salvo5.0.tv, ci troviamo in questo momento a Luino, è una cittadina in provincia di Varese, dove stiamo per cominciare con questa serata fuori dall'Euro, che vede tutta una serie di ospiti importanti, abbiamo l'europarlamentare Eleonora Evi, l'europarlamentare Marco Valli, Marco Saba, direttore del centro studi monetari, l'avvocato Stefano Bianco e poi io farò da moderazione. Ecco, la regia ci sta mandando in onda appunto alla locandina, dove vedete la lista di tutti i partecipanti. Quindi stiamo cominciando, ci sarà anche un intermezzo musicale, però adesso cominciamo. Ecco, quindi cari amici adesso vi saluto e ci vediamo immediatamente, adesso, perché stiamo cominciando. Ecco, sei pronto per partire? Sì, mi sa che Giavranco è già partito. A più tardi, cioè no a più tardi, cominciamo adesso. Cominciamo? Ah, un po' di musica allora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono Gianfranco Cipriano, attivista del Movimento 5 Stelle, insieme a Clarissa Elena ringrazio i gestori del locale che ci hanno permesso di fare questo evento in un luogo così importante. Questa sera parleremo dell'euro, ci domanderemo se uscire o meno dall'euro e cercheremo di fare chiarezza su questo importante argomento. Il Movimento 5 Stelle è un movimento democratico e non necessariamente vuole uscire dall'euro, diciamo che però pretende che i cittadini possano e debbano decidere su un tema così importante e così rilevante per la nostra nazione. Detto questo passerei a presentarvi i nostri ospiti, i nostri relatori. In particolare abbiamo Salvo Mandarà, che è un ingegnere esperto in comunicazioni. Salvo ha fondato una delle prime web tv e ha seguito i vari tour del Movimento un po' per tutta l'Italia e a tal proposito, come dice lui, salutiamo i web spettatori. Poi abbiamo Marco Saba, è un esperto in politica monetaria, è stato ospite anche della Gabbia e frequenta spesso gli ambienti bancari e le assemblee azionarie delle più importanti banche del mondo. Marco Valli è il nostro europarlamentare, è nella Commissione Economia e problemi monetari, dopo naturalmente vi presenterete ancora meglio, ed è stato già da noi come Eleonora a Luino nel periodo della campagna elettorale sulle europee. Un caro amico che stimo moltissimo del gruppo di Varese, l'avvocato Bianco, insieme abbiamo scritto una proposta di legge per tutelare i garanti dei finanziamenti. Potrete vedere sul web eventualmente questa iniziativa, è un'iniziativa della quale speriamo se ne parlerà in Parlamento in Italia, non europeo, nei prossimi giorni. Eleonora Evi, lei è nella Commissione Ambiente e Sanità, a tal proposito passerei la parola proprio a lei che inizierà questa serata. Un appunto, questa serata non vuole essere una relazione o un commento, vuole essere una serata di discussione, vuole essere una serata di chiarimento per tutti coloro che hanno delle domande. Un compito importante appunto a questo lo svolgerà a salvo perché vorrà ricevere tutte le vostre domande e vorrà farle anche a sua volta ai nostri relatori. Passo appunto la parola di Eleonora e ti ringrazio.